ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita il motivo di questo video beh non lo so però mi andava di parlarvi di una piccola tematica anzi forse più di una tematica per quanto riguarda il mondo dei videogiochi ora che sono un po meno attivo sul canale mi sto godendo alcuni titoli e di una cosa ho capito che mi diverto solo con i videogiochi che mi fanno sognare non sono mai stato un runner nei videogiochi non mi sono mai piaciuti quelli a strada dritta dove si combatte e basta o si fa sempre solo la stessa cosa e quello che mi sono reso conto è che giocando a days gone qualcuno mi aveva detto questo gioco fa schifo c'è di meglio e mi sono reso conto di apprezzare tantissimo invece la possibilità di stupirmi davanti a ogni singola cosa inaspettata e non anche solo tornare dopo una missione e vedere l'alba nel gioco un'alba inaspettata sentirmi parte di un mondo ed è una cosa che ben pochi giochi sanno fare e days gone lo fa benissimo ci sono anche molte situazioni impreviste che ho potuto apprezzare in questo gioco come ad esempio trovare degli zombie in lontananza che inseguono un branco di cervi sono tutte cose che alla maggior parte dei giocatori non interessano non ne fanno non ci fanno caso ma forse io sono un giocatore che arriva dagli anni 90 dove si giocava tutto con l'immaginazione cosa che purtroppo ora si è persa e quindi mi sta piacendo veramente tanto pagare con la moto nelle foreste magari al sorgere del sole al tramonto di notte con le orde certo ci sono tanti che poi stanno lì pronti sempre col dito puntato dire il bug il bug il bug il bug ci si passa sopra se si vuole soprattutto se non siete dei programmatori perché se poi un bug lo risolvete sempre con un devono sistemare non è possibile fatelo voi se siete capaci ecco days gone mi sta facendo sognare ma non è il solo perché adesso vi farò vedere un altro titolo che vi ho portato più volte e che più di ogni altro mi sta facendo sognare e parliamo di x 4 foundations la possibilità di viaggiare nello spazio in lungo in largo di fare mille cose può forse stordire la maggior parte dei giocatori ma io mi impressiono sempre dalla profondità di questa intelligenza artificiale mi faccio mille domande vagando nello spazio vedendo le stazioni viaggiando seguendo una quest vedo in lontananza delle navi che viaggiano e loro hanno la loro routine stanno lavorando per qualcuno stanno trasportando qualcosa stanno inseguendo qualcuno stanno forse anche pattugliando una zona quella stazione invece quella stazione che vedo è costruita da una fazione non ha vita illimitata non è lì per sempre ma può essere distrutta nell'arco di qualche ora di gioco da altri rimessa in piedi da un'altra fazione sono tutte cose che probabilmente potranno suonare un po stupide alla maggior parte di chi vedrà questo video ma mi sto rendendo conto che io non sono un giocatore diciamo tipico ma sono un giocatore molto esigente e amo semplicemente giocare e poter sognare e secondo me tanti giochi ora non lo permetto più giochi che fanno fare sempre la stessa cosa dall'inizio alla fine non danno mordente nella storia storia che tra l'altro recitando days gone è bellissima storie che sto trovando intrigante anche in x4 foundations quindi l'impronta che vorrei dare in futuro al canale è questa portarvi cose solo cose che mi fanno davvero sognare ragazzi ora attendo il vostro parere in questo video brevissimo raccontatemi magari cosa quale gioco ha fatto sognare voi e che cosa ne pensate di questa tematica che vi ho appena detto alla prossima ragazzi e ciao ciao grazie a tutti